Buonasera, eccoci qua puntuali. Caro Marco, vedi sono andato dal barbiere perché mi sa che tra qualche giorno non si potrà più uscire. Come la vedi la situazione? Caro Marco, cari telespettatori di Entra la TV, intanto buonasera perché il saluto è d'obbligo anche se, come dici tu, forse è meglio organizzarsi per tempo. Intanto noi siamo qui, come sempre lo diciamo, per parlare di numeri, di questa maledetta pandemia, di questo Covid, di questa Covid-19 che sta continuando a far aumentare le sue, tra virgolette, vittime, anche se oggi dobbiamo parlare anche di vittime in senso assoluto perché abbiamo un numero molto forte di purtroppo di decessi, ma dobbiamo anche parlare di provvedimenti, provvedimenti nazionali con DPCM che nelle ultimi 15 giorni fioccano fuori, vengono fuori come funghi in piena stagione settembrina, però andiamo con ordine, anzi andiamo subito un po' a vedere Marco, questo DPCM di cui vogliamo parlarne subito proprio perché è imminente, anche se se ne parlerà come data di attuazione non prima di giovedì, quindi c'è ancora la giornata di domani, tra virgolette come situazione pre-DPCM dove naturalmente vigono ancora tutti i paletti e le ordinanze che sono uscite nel DPCM che è ancora vigente. Parliamo subito intanto con l'aiuto anche della grafica con ipotesi di DPCM perché ricordiamolo che il testo uscirà ufficialmente varato dopo le ultime riunioni che si stanno tenendo in questo momento, fra cui quelle con i governatori regionali, sono ipotesi come vediamo anche con la grafica 1, 2, 3, 4 che vedono intanto alcuni paletti fissi. Ci saranno delle suddivisioni dell'Italia in diverse zone, dalla gialla alla rossa regione per regione. Ogni regione avrà un suo colore che potrà mutare e dopo andremo a vedere come muterà questo colore in base naturalmente neanche a dirsi a rischio di diffusione della pandemia, quindi anche a rischio di saturazione delle terapie intensive degli ospedali in generale e anche naturalmente a rischio di vittime. Intanto ci saranno nelle zone rosse il rischio di spostamenti di qualunque tipo, anche intercomunali. Poi ci saranno anche le chiusure, saranno confermate le chiusure dei centri commerciali nei fine settimana, nei festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, tabacchi e generi alimentari. Inoltre si parla anche di riduzione della capienza dei mezzi di trasporto pubblici locali, compreso anche il trasporto ferroviario regionale, che sarà ridotto il tutto al 50%. Inoltre ci sarà un coprifuoco nazionale, al di là delle regioni, dalle 22 alle 5 del mattino. Sono concessi solo spostamenti con comprovate esigenze di lavoro oppure di motivi di salute e anche qui prepariamoci con le autocertificazioni perché purtroppo torneranno ad essere a fare il cappino. Inoltre in generale possiamo parlare appunto di che cosa il DPCM conterrà. Intanto in generale una forte raccomandazione a non spostarsi salvo per esigenze come detto lavorative per motivi di salute e per situazioni di necessità in tutti i casi. Poi avremo anche intanto un arco temporale ben preciso, cioè inizierà come abbiamo detto il prossimo 5 di novembre e durerà fino al prossimo 3 di dicembre. Poi ci saranno per quanto riguarda le zone più ad alto rischio, quindi scenari 3 e 4, perché 4 saranno i scenari, quindi abbiamo detto giallarancione e rosso sono i scenari più progressivamente più stressati, poi c'è il verde naturalmente. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità c'è il divieto abbiamo detto di uscita dai territori anche comunali in certi casi, quindi non solo regionali ma si parla anche di divieto di spostamento fra i comuni limitrofi. Questo è quello che poi dovrà essere limato e di cui si sta parlando proprio in questi minuti nella riunione in remoto fra tutti i governatori regionali e il Presidente del Consiglio e la sua tavola tecnica che dovrà poi decidere. Remarranno comunque aperte anche nelle zone rosse, quindi quelle più interessate dalla diffusione del virus, le industrie, l'artigianato, l'edilizia ai servizi. Questo sarà garantito così almeno dalla bozza. Poi nelle zone a massimo rischio si prevede la chiusura generale dei negozi, dei mercati, dei bar e della ristorazione. Rimarrà solo a disposizione la possibilità dei ristoranti di fare consegna a domicilio e da sporto fino alle 22. Inoltre sarà vietato qualunque attività sportiva e rimarrà solo l'attività motoria che è sempre stata un po' una diatriba fra la differenza per distinguere l'attività sportiva e l'attività motoria. In prossimità però della propria abitazione e con l'obbligo della mascherina. Attenzione, qui nasce l'obbligo della mascherina. Attività sportiva è esclusivamente all'aperto in forma individuale, quindi rimane il divieto di fare attività motoria e sportiva naturalmente nelle palestre, quindi al chiuso, ma all'aperto solo quella motoria. Poi nelle zone rosse sarà a distanza la didattica per anche le scuole di seconda e terza media. Rimarranno quindi solo in presenza le scuole di prima media e le elementari. Questo è quanto si vince dalla bozza. Nelle zone rosse quindi c'è questa novità per quanto riguarda le scuole. Inoltre si sta discutendo per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, elementari e le medie, perché alcune regioni invece stanno e vorrebbero lasciare aperte almeno le scuole, lasciando solo in DAD, diciamo didattica a distanza, le scuole superiori. Nelle zone rosse saranno chiusi parrucchieri, barbieri ed estetisti, quindi quello che hai fatto tu oggi, se nel caso in cui la regione Liguria, e non dovrebbe però staremo a vedere, ricadrà in zona rossa, tu sei già a posto, Marco ti sei già portato avanti. No, per due mesi sono a posto, dai. Sì, vabbè, ora poi due mesi, 3 dicembre dovrebbe ritornare tutto alla normalità, ce lo auguriamo naturalmente. Nelle zone rosse, quindi quelle più ad alto rischio, la bozza di questo DPCM prevede anche la sospensione, come abbiamo detto, di tutte le attività sportive, anche all'aperto, attenzione, anche all'aperto, solo nella zona rossa non si potrà fare nessun tipo di attività. Nelle altre zone, l'abbiamo specificato prima, a parte appunto quindi la mobilità individuale. Per quanto riguarda la zona rossa, abbiamo detto, anzi, anche per quanto riguarda la zona arancione, aperti i negozi, ma chiudono bar e ristoranti, quindi bar e ristoranti chiusi in zona arancione e rossa, secondo quanto dice la bozza del DPCM pronto a essere varato. E saranno limitate in queste zone anche gli spostamenti con metri di trasporto pubblico e privato, in un comune diverso da quello di residenza. Attenzione, anche qui servirà l'autocertificazione perché si potrà invece spostarsi fra comune e comune salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità. Anche questo è un dato molto importante, perché questo vale anche per le zone rosse. Quindi questo è un po' il quadro di questo DPCM che sta per essere varato. Domande Marco? Eh, vediamo quando l'ha emanato, perché secondo me cambia qualcosa ancora. Sicuramente sì, sicuramente sì. Staremo a vedere appunto, lo potremo analizzare poi seguendo anche Intellatv sui social in tempo reale, daremo possibilmente la possibilità di leggere questo DPCM definitivo. Torniamo a parlare di numeri, Marco, invece. Il nostro hobby è ormai diventato da 6-7 mesi a questa parte serale. Allora, andiamo a leggere il grafico relativo alla protezione civile che ci parla di guariti. Oggi abbiamo un elevato numero di guariti, fortunatamente 6.258 persone guarite in tutta Italia. Però purtroppo crescono anche gli altri numeri, crescono il numero degli attualmente positivi, crescono il numero dei totali positivi nelle 24 ore o ben 28.244 positivi trovati in tutta Italia e crescono purtroppo anche i decessi. Andiamo con ordine. Marco, il grafico 1 ce lo illustra bene, ci fa vedere che cosa? Che abbiamo appunto, come detto, un dato non da record, fortunatamente, però un dato comunque importante, dei nuovi tamponi positivi giornalieri. 28.244 nelle ultime 24 ore di tamponi positivi totali. Per quanto riguarda il numero di tamponi, grafico 3, lo andiamo a vedere insieme. A parte il down, come vedete, è sceso ieri, come accade il lunedì. Oggi torna a salire, anche se non da record, siamo in tutta Italia a un numero pari a 182.287 tamponi fatti in 24 ore. Quindi andiamo sempre a vedere col grafico 8 la percentuale dei positivi sui tamponi fatti, che oggi scende, fortunatamente, anche se siamo ancora a numeri abbastanza importanti, al 15,5%. Questa è la percentuale dei tamponi che sono risultati positivi sul totale dei tamponi fatti. Se noi andiamo a vedere poi altre grafiche, possiamo andare a vedere appunto i decessi, ne abbiamo parlato prima. Abbiamo col grafico 6 i decessi giornalieri, ne abbiamo bene, questo è purtroppo un record, almeno dallo scorso fino aprile, di 353 decessi in soli 24 ore. Questo è un dato purtroppo che non avremmo mai voluto leggere. Il grafico 5, Marco, invece, il grafico 5 ci parla di ricoverati in terapia intensiva, sempre in salita, anzi oggi sale addirittura di più 203 persone ricoverate in terapia intensiva nell'ultime 24 ore. Questo è un dato che invece è da tenere molto in considerazione. Ricordiamoci la saturazione di queste terapie intensive che arriva stimata sopra i 3.000 casi di saturazione. Ricordatevi che ad aprile, come vedete anche nello stesso grafico, i 4.068 erano over saturazione, nel senso che vi ricorderete che in regioni come la Lombardia, ma non solo, anche da noi avevamo avuto notevoli problemi di saturazione in terapia intensiva, appunto tale che erano state allestite in Liguria, ad esempio, una nave apposta in Lombardia, dei ricoveri a Milano, per quanto riguarda l'area fiera, eccetera. Per quanto riguarda altri dati, Marco, e domande? Ti posso fare una domanda? C'è un mio amico che abita in Austria, mi dice se vengo in Italia devo fare la quarantena di quattordici giorni? Allora, ad oggi dall'Austria no, vedremo se questo, allora, in generale, anche lì, dipende un po' da come arrivi, nel senso, tutti i voli aerei sembrerebbe che per quelli, coloro i quali arrivano dall'estero, siano obbligatori i quattordici giorni, che poi ora sono dieci, di quarantena. Non so se lo spostamento che si avviene in macchina, questo fa ricadere la quarantena, ma non credo, un po' come succede col confine francese. Per quanto riguarda altri dati, Marco, andiamo a vedere quelli Liguri, grafico 00, ci parla dei dati nella nostra regione Liguria, oggi abbiamo 1052 tamponi positivi in più in 24 ore, stiamo sfiorando i 31 mila dall'inizio della pandemia, abbiamo anche 378 in più persone positive, nelle ultime 24 ore attualmente positive, ricordiamoci che in Liguria abbiamo 14 mila 635 persone positive, fra quelli tamponati con il tampone tradizionale, ricordiamolo, a cui poi bisogna aggiungere quelli che sono tamponati con il tampone salivare, il tampone rapido, eccetera, abbiamo 21 persone in più negli ospedali Liguri le ultime 24 ore, pensate, 1211 sono ricoverati in tutta la Liguria, causa Covid, nei reparti Covid, di questi 7 in più sono ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 64, 64 persone in Liguria sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece coloro i quali hanno basse sintomatologie ma sono positive, sono 8618, 514 in più nelle ultime 24 ore, numero non da poco, anche perché se poi andiamo a vedere il numero dell'ASL 4 Ligure, oggi è salito a 109 persone ricoverate nei reparti Covid di Sestilevante e di Lavagna, 4 dei quali in terapia intensiva. Abbiamo guariti, guariti ne abbiamo 654 nelle ultime 24 ore, purtroppo abbiamo tantissimi, come abbiamo detto a livello nazionale, purtroppo tantissimi, io lo reputo un numero molto alto, numero di decessi nelle ultime 24 ore, ben 20, 20 persone causa Covid o con il Covid sono decedute. I tamponi infatti oggi sono moltissimi in Liguria rispetto alla media, 6619 la cosa ci deve anche fare un po' rilassare da questo punto di vista perché è importante, anche se anche in questo caso si delinea il fatto che Regione Liguria abbia deciso di sommare i tamponi tradizionali con i tamponi quelli da screening, quelli salivari. Poi abbiamo gli ospedalizzati, abbiamo detto 1200-1211. Per quanto riguarda ancora i dati locali, quelli di Chiavari, oggi abbiamo, pensate, 31 nuovi chiavaresi positivi nell'arco di 24 ore, un numero molto forte purtroppo, che porta a 210 le persone positive chiavaresi in totale. Abbiamo gli ospedalizzati chiavaresi pari a 21, abbiamo detto prima che nella nostra ASL 4 abbiamo un totale di 109 ricoverati, 21 sono chiavaresi. Abbiamo neanche un guarito, oggi purtroppo non c'è neanche un guarito, ma abbiamo 60 persone in sorveglianza attiva, quindi in quarantena. Domande Marco? Allora, prima di concludere diamo una veloce occhiata ai motivi con cui le singole regioni verranno catalogate in zona verde, in zona gialla, in zona arancione e in zona rossa. Il grafico 30 fa un po' un riassunto su quello che il Comitato Tecnico Scientifico userà come metro di giudizio per decretare il colore della regione. Quindi gli indicatori come si legge lì sono l'accesso ai pronto soccorso, se sono più o meno saturi, l'occupazione dei posti letti in ospedale, l'occupazione delle terapie intensive negli ospedali, il numero dei focolai attivi nella singola regione, il famoso indice R con T, il numero dei casi, andiamo a vedere anche l'altra grafica successiva, il tracciamento dei contatti come avviene in ogni singola regione, il numero di tracciatori disponibili, questo è importante, la diagnosi rapida come viene fatta, la percentuale di positivi su casi testati, la conoscenza di dati su positivi ricoverati appunto persona per persona e infine il monitoraggio dell'RSA e delle strutture sociosanitarie. Tutti questi parametri, diciamo così, indicatori come li hanno chiamati i Comitato Tecnico Scientifico, faranno sì che se sono stressati, alti come valori, purtroppo, o comunque alti, comunque non buoni, non sotto controllo, saranno automaticamente decretanti il colore rosso-arancione della singola regione. E per parlare di colori, prima di salutarci, guardiamo ad esempio com'è col grafico, ad esempio Marco, grafico 15, vi voglio mettere a confronto un grafico aggiornato ad oggi, ve lo spiego subito che tipo di grafico è, come si legge lì sulla sinistra in alto, è il tasso di crescita giornaliero dei positivi, quindi la percentuale. Come vedete parte da sinistra verso destra da marzo, quindi dal periodo del lockdown, si vede che era un valore molto alto di che cosa? Di tasso di crescita giornaliero, vedete che ci sono due colori, ve lo dico subito, il rosa è relativo alla Liguria e poi ho preso la Lombardia che molto probabilmente sarà regione rossa. Come vedete l'andamento di questi valori, di questo tasso di crescita, man mano che passa il tempo, non è molto diverso fra la Liguria e la Lombardia. E se andiamo a vedere nell'attualità, come vedete sulla destra, si parla da ottobre in poi, fino ai primi giorni di novembre, oggi praticamente, sono equiparabili. Naturalmente stiamo parlando di tasso, quindi percentuale, quindi valori confrontabili e si può vedere che la Liguria è confrontabile come tasso di crescita di positivi giornaliero con la Lombardia. Speriamo che questo sia un valore che non decreti la zona rossa anche in Liguria, è un parametro comunque oggettivo, è un dato che vi volevamo dare fra gli altri, che spiega un po' come è la situazione da noi in Liguria. Un altro dato che vi volevo dare è quello relativo al tasso di crescita settimanale, il grafico, la tabella 14 Marco. È un altro dato che vi spiego subito, non è che dovete imparare. Allora, è messa in ordine, vedete, tabella monitoraggio confermati e vedete la colonna delle regioni, ordinate in che modo? In base, come si vede sulla destra, al tasso, alla percentuale, quindi al tasso di crescita dei positivi settimanali, in questo caso quello di prima era giornaliero, ora è settimanale. Non c'è più la Lombardia, perché la Lombardia l'è in fondo, come vedete, sulla tabella è in fondo, ma c'è l'Emilia-Romagna e la Lombardia, comunque sia regioni che, l'Emilia-Romagna scusate, e la Liguria, che sono comunque regioni, se non sono in zona rossa, come abbiamo detto appunto la Lombardia e la Valle d'Aosta, per esempio, che la vediamo laggiù, bella al 4%, la Liguria col suo 3,36 a livello settimanale ha un tasso di crescita che è comunque fra le regioni, come vedete, con più alto valore. Detto questo, non per allarmarvi più, ci salutiamo qui, perché poi parleremo giovedì anche del resto d'Europa, che comunque sia non sta promettendo nulla di buono, infatti anche la Francia sta continuando a emettere dei provvedimenti, il lockdown, lasciando giusto aperte le attività produttive industriali, quindi, e anche le scuole. Tutto il resto sarà chiuso, così come sarà così anche in Gran Bretagna, in Germania e in Spagna. Hai domande Marco? Ok, allora rimandiamo al tutto, naturalmente invitandovi a scaricare l'app Immuni, usare bene la mascherina, lavarvi le mani e usare il distanziamento interpersonale, naturalmente ci rivediamo qui su Entella TV a puntuali, naturalmente, alle 20, giovedì prossimo. Ciao e grazie.